Grazie all'identità digitale, la pubblica amministrazione ti fornisce la chiave per accedere ai servizi online. Con un'unica credenziale puoi utilizzarli in modo semplice, veloce e sicuro. Accedi con il tuo Speed o con la tua carta d'identità elettronica ai servizi pubblici online. Affrettati! Presto l'accesso sarà disponibile solo con queste modalità. Richiederli è facile. Informati su identitadigitale.gov.it Speed CE, l'identità digitale in Italia.